Notizia di questi giorni è anche la morte del senatore Luigi Covatta, ex sottosegretario della Repubblica, amico di Procida. Con noi una persona che l'ha conosciuto, che l'ha stimato e con la quale ha condiviso un percorso di vita politico. Eh sì, se n'è andata una parte di me. Luigi, per gli amici, Gigi Covatta è stato un fratello. Un amico che amava Procida. Noi avevamo iniziato insieme questo percorso politico ed umano, umano e politico, alla fine degli anni Sessanta con le Acli, il circolo dei cattolici che a Procida risvegliò tante coscienze sopite. Insieme a Tenzo Esposito fondammo questo circolo, di cui Covatta, appunto, delle Acli era dirigente nazionale. Poi arrivò l'esperienza dell'MPL di Livio Labor nel 1972, ma l'avventura elettorale non andò bene, per cui confluimmo nel Partito Socialista e precisamente poi nella corrente di Riccardo Lombardi. Procida è l'entrata nel cuore di Covatta e lui ci dimostrò sempre impegno ed attenzione per i suoi problemi. Io voglio soltanto ricordare le battaglie che lui, come sottosegretario, fece per salvare il verde di Punta Pizzaco e il verde di Punta Solchiato, come pure decisivo fu il suo impegno per l'istituzione della ragioneria a Procida. Allora era un indirizzo molto seguito, molti giovani non volevano più fare il nautico e quindi si innestò questo discorso alla ragioneria. E Covatta, che allora era sottosegretario alla pubblica istruzione, fece questa istituzione. Insomma, Procida è l'entrata nel suo cuore, quindi perdiamo un amico, perdiamo veramente un dirigente politico. L'unica cosa che voglio dire per concludere è che comunque, al di là della sua morte fisica, la sua testimonianza, le sue idee, le sue proposte rimangono vive, Covatta viva ancora in mezzo a noi.